Professor Rasi, ancora un ritardo da parte della Pfizer nella distribuzione dei vaccini, un ritardo che riguarda anche l'Italia. Da che cosa è dovuto questo ritardo e possiamo aspettarci che possano succedere ulteriormente situazioni di questo genere? Ma io credo che il ritardo sia dovuto a un adeguamento della capacità produttiva che era stata annunciata dalla ditta stessa, questa perlomeno è la versione più probabile. È un ritardo marginale di una settimana e di un numero di dosi che non sposta una campagna vaccinale. È però un segnale importante, è il segnale che una campagna vaccinale sarà lunga e dobbiamo mettere in conto incidenti di produzione di varia natura, incidenti di vario tipo nella consegna, nel stoccaggio, eccetera. E questo è un messaggio che abbiamo dato fin dall'inizio come ente regolatorio. Le campagne devono essere disegnate con elementi di flessibilità, anche perché ci sono ulteriori variabili legate alle possibili mutazioni del virus che potrebbero imporci campagne più articolate, diverse, o degli stop e degli aggiustamenti. Qual è la sua opinione invece sulle decisioni strategiche che sono state prese da diversi paesi in merito alla diversa somministrazione della seconda dose del vaccino? Ma sono un po' sorprendenti. Si chiede una sperimentazione rigorosa, questa viene fatta con un protocollo rigoroso e dopo si prendono decisioni politiche di non tenere conto di queste. Quindi ci avete fatto perdere tempo con la sperimentazione, in poche parole. Per assicurare però chi si sottopone al vaccino. Allora, il primo, quello di Pfizer, BioNTech, chiede 21 giorni di intervallo tra la prima e la seconda, 28 giorni per Moderna. L'EMA, l'ente regolatorio, ha visto che durante lo studio clinico sono stati, alcuni soggetti hanno preso fino a 42 giorni di ritardo di intervallo tra la prima e la seconda dose senza particolari conseguenze né di efficacia né di sicurezza. Quindi diciamo che vanno rispettati rigorosamente gli intervalli 21-28 giorni, se per motivi, e vanno pianificate in questo senso le campagne, se per motivi contingenti si debba veramente arrivare a 42 giorni, riteniamo che i soggetti lo possono fare con grande tranquillità. Basare invece un'intera campagna vaccinale sulla vaccinazione al 42esimo giorno? Secondo me è sbagliato perché non abbiamo i grandi numeri su questo. Abbiamo alcune osservazioni e siamo relativamente tranquilli. Significa fare un altro studio, non è il momento, li abbiamo già fatti. Parliamo invece delle reazioni avverse. Abbiamo letto le notizie che vengono dalla Norvegia. Che cosa ne pensa? Ebbè, noi non abbiamo le risposte, ma abbiamo molto chiare le domande che vanno fatte. Sono 29 decessi, tutti in una specifica area geografica. Cosa significa? Che noi lo chiamiamo un segnale. Il segnale cosa significa? Mi devi dire perché tutto in Norvegia? Quindi, prima domanda, primo sette domande. Come è stato conservato questo lotto? Come è stato scongelato? Come è stato somministrato? Terza domanda. Ci sono caratteristiche comuni di questi malati che ci indichino che non dovranno essere quelli con analoghe caratteristiche vaccinati? Bene, una prima evidenza da una delle autopsie sembra che un soggetto avesse una polmonite in atto. Ora, anche la mamma sa che non si porta il bambino a vaccinare se ha la febbre. Quindi credo che le autorità norvegesi ci debbano parecchie risposte. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.